Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento le differenze nella prima maglia del Manchester City per la stagione 21 e 22 tra la versione player o authentic e la versione fan o replica. Le maglie sono molto simili. Nella versione player ovviamente notiamo a parità di taglia una vestibilità inferiore perché è comunque più attillata. Nella versione player, a differenza che in quella fan, stemma del club e logo Puma sono termosaldati mentre nella versione fan sono ricamati. Il tessuto della versione player è molto più traspirante di quello della versione fan, questo per garantire al calciatore un miglior comfort durante la partita. Il collo in entrambe le versioni AV ma nella versione fan vi ha questo orlo che non è presente nella versione player. Anche sul retro si nota come il tessuto della versione player sia molto più traspirante. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate potuto apprezzare e capire quali sono le differenze tra le due versioni che ribadisco non contraddistinguono una versione falsa e una vera ma semplicemente una versione un po' più economica per i tifosi diciamo così e una versione un po' più costosa identica a quella dei calciatori. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poter acquistare le maglie. Per oggi è tutto prima di lasciarvi se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!